Continuiamo ancora questa serie di video presente nella playlist di ortodonzia evoluzionistica e andiamo appunto adesso a vedere quando è realmente necessario mettere l'apparecchio ai denti, sostanzialmente quindi quando è necessario il trattamento ortodontico. Per poter capire quando sia effettivamente necessario il trattamento ortodontico bisogna prima di tutto capire che cosa possono causare le malocclusioni dentali. Diversi studi hanno messo in evidenza che le malocclusioni dentali possono causare tre principali problemi. Numero 1, problemi psicosociali, legati proprio all'estetica dentofacciale. Numero 2, problemi funzionali, come per esempio la difficoltà nei movimenti della mandibola in alcuni tipi di malocclusione o problemi nella masticazione, quindi una masticazione meno efficiente, oppure problemi nella deglutizione, nella fonazione, nonché anche i disordini temporomandibolari. Numero 3, traumi e problematiche parodontali. C'è infatti una maggiore predisposizione a traumi, a problematiche parodontali e a deterioramenti correlati proprio alla malocclusione, perché in alcuni casi si può creare uno stress occlusale su un singolo dente, perché il carico masticatorio non deve essere mai ripartito su di un solo dente, su alcuni denti, ma deve essere distribuito in maniera, comunque sia, uniforme. Andiamo adesso a sviscerare sostanzialmente tutti questi tre punti più nel dettaglio. Per quanto riguarda le malocclusioni, i problemi psicologici e sociali, questo è un aspetto ovviamente molto importante. Gravi malocclusioni possono costituire un handicap sociale. Se ci pensate, la tipica caricatura di un individuo considerato dalla società poco brillante include gli incisivi superiori sporgenti e quindi quelli che in gergo vengono chiamati i denti da coniglietto. Spesso chi ha queste problematiche infatti viene anche bullizzato. O anche per esempio uno stereotipo di una brutta donna è associato ad una strega, quindi una donna con una mandibola sporgente. Quindi un buon allineamento dentale e un sorriso piacevole generano nell'inconscio delle reazioni positive. Denti protrusi o denti irregolari invece inducono reazioni negative. La prima cosa che si nota infatti quando guardiamo il volto di qualcuno è proprio il suo sorriso. È universale in ogni cultura del mondo ed è peculiare del sapiens. Diversi studi infatti hanno anche messo in evidenza che chi ha un bel sorriso tende in media anche ad avere un maggior successo nella vita. È chiaro che ci sono individui anche con una autostima alta che non si fanno alcun tipo di problema per un brutto sorriso. Sul loro stessi ovviamente. Se ci pensavo però il motivo principale che induce una persona ad un trattamento ortodontico non è tanto legato alla funzione, bensì alle problematiche estetiche e psicosociali che ne conseguono. Erroneamente si pensa che il trattamento ortodontico sia un trattamento di tipo cosmetico, ma questo è completamente errato perché oltre a dare l'estetica c'è anche la funzione di mezzo. Il secondo punto appunto sono i problemi funzionali. Le malocclusioni infatti colpiscono le funzioni orali, ma quello che più impressionantemente si nota è che queste stesse malocclusioni molto spesso generano dei compensi sorprendenti, cioè in alcuni casi ci sono persone che hanno delle gravissime malocclusioni ma la funzione non si altera perché il corpo umano diciamo riesce a trovare dei compensi, degli adattamenti. È proprio tipico del sapiens l'adattamento di base. Però poi in medicina non bisogna abusare della capacità di adattamento degli organi. Così in questi individui che hanno questa grande capacità di compenso e di adattamento la funzione è comunque sia espletata, quindi il soggetto riesce a masticare, a deglutire eccetera eccetera, ma con maggiore difficoltà. Per esempio un soggetto con una particolare malocclusione avrà bisogno di compiere più cicli masticatori rispetto ad un soggetto che ha una funzione nella norma. Ma una funzione alterata bisogna anche considerare perché uno può dire vabbè il compenso quindi non serve trattamento. In realtà però una funzione alterata altera la crescita craniofacciale se è chiaramente reiterata nel corso del tempo. Difficilmente imperfezioni occlusali comunque sia molto piccole o isolate possono comportare per esempio dei disordini cranio-mandibolari. Diverso invece per alterazioni occlusali più estese. Il motivo di ciò è molto semplice. Le persone affette da malieve e malocclusione sono più numerose di quelle con disordini cranio-mandibolari. Si stima che quelli con una malocclusione lieve siano addirittura tra il 50 e il 75 per cento della popolazione. Mentre quelli con disordini cranio-mandibolari siano tra il 5 e il 30 per cento della popolazione. Quindi è difficile che imperfezioni occlusali isolate possano causare una iperattivazione della muscolatura orale. C'è semplicemente quasi sempre alla base di DCM il discorso ormonale, quindi gli ormoni femminili che predispongono, la presenza, la storia di macro di microtraumi a carico del volto, e lo stress sostanzialmente. Chi è stressato infatti non sempre somatizza a livello orale, in alcuni casi si somatizza a livello orale Brux alla notte e quindi ha questi tipi di problematiche come i DCM, in altri casi si può somatizzare in altri distretti, li viene la colite ulcerosa per esempio. Il crossbite posteriore è stato visto in letteratura che ha una maggiore associazione con i disordini cranio-mandibolari, perciò l'ortodonzia comunque sia non rappresenta un trattamento primario per i disordini cranio-mandibolari. In alcuni casi l'ortodonzia può migliorare i disordini cranio-mandibolari, ma non è il motivo principale per cui si esegue il trattamento ortodontico. Questo è il discorso. Ultimo, terzo e ultimo punto, i traumi e le malattie dentali. Ovviamente i denti sporgenti predispongono a traumi. Se voi ci pensate, un bambino con gli incisivi molto sporgenti è più esposto a dei traumi. C'è però allo stesso tempo una possibilità su tre che questo accada e qualora si verifichi di solito si tratta di piccole fratture dello sbanto. Quindi su YouTube troverete molti guru che dicono trattamento ortodontico perché tuo figlio ha i denti sporgenti per evitare che abbia dei traumi. Sì, va bene, ma in realtà anche quello non deve essere il motivo primario. Il motivo chiaramente è un altro, cioè correggere la funzione, correggere la masticazione alterata che c'è in un soggetto che ha ovviamente dei denti sporgenti e di rimando correggere anche l'estetica. Con questo video ho chiuso. Chiaramente la serie di video sull'ortodonzia evoluzionistica continuerà in questo prossimo video in cui parleremo di chi richiede il trattamento ortodontico e di chi ha effettivamente bisogno del trattamento ortodontico. Ti ricordo che tutto quello che trovi sul mio canale ha uno scopo informativo. Io ti ringrazio se sei arrivato a questo punto del video, lascia un mi piace, condividi questo video con altri denti per far crescere sempre di più questa community ed iscriviti al canale così non ti perdi il prossimo episodio di questa serie. Ci vediamo al prossimo video.